Buongiorno a tutti, in questo video tutorial vediamo come compilare la domanda per il concorso ordinario dei docenti di religione cattolica. Entriamo nel sito del Ministero dell'Istruzione del Merito e andiamo nell'area riservata attraverso l'accesso riservato. Andiamo su area riservata e ci logghiamo con lo speed. Una volta entrati nell'area riservata, nel menu servizi andiamo a cliccare su tutti i servizi. Andando su tutti i servizi alla lettera P, come Palermo, avremo la piattaforma concorsi e procedure selettive. Clicchiamo in questa piattaforma ed entriamo nella pagina iniziale della lista delle istanze aperte. Troveremo come prima istanza quella del concorso ordinario per titoli di esami finalizzata al reclutamento degli insegnanti di religione cattolica delle scuole dell'infanzia e primaria. Per andare a compilare la domanda si va da questo tasto compila la domanda. Quando vi avvicinate a compilare la domanda vedrete che cambia colore, diventa bianco, dunque si può cliccare per entrare in compila la domanda. Scendendo più in basso c'è l'altro concorso sempre ordinario per gli insegnanti di religione cattolica, ma nella scuola secondaria di primo e secondo grado. Anche in questo caso andando su compila la domanda il tasto diventa bianco e si può entrare a compilare la domanda. Ecco, questo era un video tutorial per vedere come entrare nella pagina riferita a dove stanno le istanze. Faremo un altro tutorial per vedere la compilazione del concorso ordinario per titoli di esami per la scuola dell'infanzia e della primaria per gli insegnanti di religione cattolica Grazie! 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 Grazie!